Che non c'è l'olio, ci sarebbe ancora la nera. Vedi com'è importante alzarci presto? Già. Alla mattina andò un bambino, vorrei in cucina, prendi alle viole, a chi fa fatto amore, dice buongiorno, sorride amici. Perché la tinta, ecco perché, perché la tinta, ecco perché, perché la tinta, ecco perché, qualcosa ci vuol, bene carote.